Prima di iniziare il video odierno che come promesso tratterà il tema dell'Italexit e soprattutto sul perché la maggioranza dei nostri connazionali non ha ancora maturato la consapevolezza che l'entrata nell'euro e nell'Unione Europea ci ha evidentemente penalizzati ed è alla base quindi della situazione di perenne crisi, permettetemi oggi 10 febbraio di ricordare che è il giorno dedicato alla memoria per ricordare le vittime delle foibe, l'esodo Giuliano Dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale. Posso dire senza alcun tema di smentita che la censura ed addirittura il negazionismo sul dramma delle foibe è certamente una delle pagine più vergognose della politica italiana nel dopoguerra. Se come noto il partito comunista alleato di Tito arrivò persino a negare questo eccidio di migliaia di italiani, il numero preciso non si conosce ma è certamente tra le 10 e le 12 mila persone, beh non si può discolpare nemmeno la democrazia cristiana che per motivi di opportunità politica nascose completamente questa tragedia nazionale al punto che intere generazioni, la mia ad esempio, rimase all'oscuro dell'eccidio e ne venne a conoscenza solo in tempi recenti. Insomma, il cuor mio, certo, speravo che ad oggi perlomeno questa tragedia nazionale fosse condivisa da tutte le forze politiche. Ed invece incredibilmente non è così. Leggo sulla rassegna stampa online che il PD si è reso protagonista di un fatto increscioso. La delegazione del PD, infatti, guidata dall'ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha lasciato la cerimonia che si stava tenendo alla foiba di Basovizza quando ha iniziato a parlare in rappresentanza del Senato, appunto, il senatore Maurizio Gasparri. Incredibile. Il nostro presidente Mattarella ha invece definito quella delle foibe una sciagura alla quale non fu dato il dovuto rilievo. Peccato che a non dare il dovuto rilievo per decenni fu lui e il suo partito. Comunque, lasciamo stare ed entriamo a parlare, come dicevo, dell'Ital Exit. Allora, innanzitutto, veramente, grazie a tutti, davvero numerosissime, le vostre risposte alle mie domande. Inizialmente avevo pensato di dare una brevissima risposta ad ognuna di E.S., ma comunque sarebbe venuto un video infinito, insomma. Allora ho pensato di prendere una sola risposta, così che potesse rappresentare un po' l'intero arco delle risposte che voi mi avete dato, sulla quale, su questa risposta però, data da un ascoltatore, sono intervenuti anche altri ascoltatori. Ed ecco allora, sugli interventi appunto di questi tre ascoltatori, mi inserisco anch'io per esprimere, così, le mie considerazioni. Ricordo che le domande che ponevo erano perché in Italia non erano scoppiati i moti di ribellione dopo aver subito la più lunga crisi economica dell'era repubblicana. Sottolineavo infatti che l'Italia non è cresciuta negli ultimi venti anni. La seconda era che se gli italiani avessero raggiunto la consapevolezza che questa situazione di crisi è destinata, purtroppo, a permanere anche in futuro. Allora, come anticipato, utilizzo la risposta di un ascoltatore il quale si focalizza sulla seconda domanda. È Federico Terenzani. Gli italiani non hanno alcuna consapevolezza di cosa realmente significhi questo mostro di euro. Agli italiani viene tolto il sangue, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, e facendo questo si aggrappano sempre più a quel poco che rimane loro. Agli italiani manca un Nigel Farage. Allora, io concordo pienamente con Federico, sia nel definire l'euro un mostro, ma soprattutto per aver usato una metafora, a mio avviso, molto efficace, e cioè quella che agli italiani venga tolto il sangue, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno. Ed in effetti questo stilicidio può essere un motivo per il quale non sono nati i moti di ribellione nel nostro paese. Gli italiani sarebbero quasi assuefatti, diciamo, a questo stilicidio, al punto di illudersi che un giorno avrebbe avuto fine, insomma. Nel frattempo, riporto ancora le parole di Federico, si aggrappano sempre più a quel poco che rimane loro. Alla conclusione del commento di Federico, cioè agli italiani manca un Nigel Farage, aggiunge una considerazione Annibale Mantovan, che scrive Manca anche una regina, nel senso che mancano dei poteri forti a sostegno dell'Italexit. Ecco, qui Annibale quasi certamente si riferisce al discorso che la regina Elisabetta II ha tenuto davanti al Parlamento Britannico, discorso che si tiene dopo ogni elezione e quindi davanti ai neoparlamentari, discorso nel quale la regina ha ribadito la necessità di arrivare in tempi brevi alla Brexit. Bene, qui però è necessario fare una precisazione. Quei discorsi che sono ottenuti dalla regina, la quale in qualità naturalmente di regnante è sì di una regnante, di una monarchia, però è una monarchia parlamentare, ecco, la regina in quel discorso praticamente legge il programma di governo del nuovo primo ministro, e quindi in questo caso di Boris Johnson. Sia chiaro che è molto probabile, nemmeno ritengo, che anche la regina Elisabetta II sia favorevole alla Brexit, ma soprattutto va sottolineato che, nonostante lei sia una sovrana, rispetta la sovranità del popolo che democraticamente, cioè tramite un referendum, aveva approvato l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito. Torniamo a noi. A quel punto Federico fa notare appunto che da noi non è così, cioè dice infatti che i poteri forti sono per l'Italia all'interno dell'Unione Europea. Di tal exit può solo partire dal basso, dal popolo e da qualcuno che lo guidi. E' un'osservazione quella di Federico che rispecchia la realtà, non cita direttamente Mattarella e fa bene, perché non è solo il capo dello Stato un convinto europeista, ma anche tutto il nostro establishment, i cosiddetti poteri forti. E allora, sconsolato, Annibale fa una considerazione, a mio avviso, a mio modo di vedere, molto rispondente alla realtà. Sentite cosa scrive. Allora siamo messi male. Quando dirai ad un dipendente statale o ad un pensionato che i nuovi stipendi e pensioni espressi in lire non varranno più niente per colpa dell'inflazione, dicendo il falso, ma la propaganda è così, ti ritroverai con il 90% che non vuole uscire. L'Italia tornerà alla lira quando la Germania uscirà dall'euro. E comunque per interventi esterni. Quindi Annibale sottolinea che la propaganda, dicendo il falso, condizionerà sempre di più il popolo italiano. In pratica dice che ciò che abbiamo visto finora è nulla rispetto a quello che potrebbero fare in futuro i mezzi di disinformazione di massa totalmente asserviti all'establishment. E mi trova completamente d'accordo. Se questo sentiment anti-europeista, chiamiamolo così, dovesse estendersi, non oso immaginare quello che possa accadere, insomma ciò che possa accadere, quale terrorismo psicologico verrebbe messo in campo dai media di regime. Si arriverà a descrivere l'Italia fuori dall'euro come un paese da terzo mondo, desolatamente povero, quasi privo dei mezzi di sussistenza. Comunque, Annibale conclude così dicendo che gli italiani non avranno mai la forza di uscire dall'euro e dall'Unione Europea e che quindi, ripeto, l'Italia tornerà alla lira quando la Germania uscirà dall'euro e comunque per interventi esterni. Federico concorda e risponde totalmente d'accordo, ma sarà troppo tardi perché chi esce per ultimo si ritroverà svantaggiato ed impreparato rispetto agli altri e con questa classe politica e dirigenziale puntini puntini. Ecco, su quest'ultima osservazione di Federico, per la verità non mi trovo completamente d'accordo. Non penso infatti che siano gli stati che escono prima e quelli che escono dopo. Io penso che se uno dei tre stati, chiamiamoli cardine insomma, di questa Unione, cioè in pratica insomma Germania, Francia o Italia, dovesse uscire, beh, secondo me salta tutto l'impianto. Certo, è bene essere preparati ad un evento simile, il famoso piano B di Savona, era proprio questo, ma l'impianto dell'Unione Europea, così e perlomeno come lo conosciamo, non potrebbe resistere all'uscita di uno stato importante. Lo direbbe. Ma alla fine interviene Elena Bossi che, come spesso capita alle donne, invita tutti ad un sano pragmatismo, scrive infatti Elena Bossi. Farage gode della forza della sterlina, il percorso Italexit sarà molto più arduo. Ed ecco qua che alla fine esce un problema che i primi due ascoltatori non avevano trattato. Parlando di Brexit e di Italexit, infatti, non avevano sottolineato la differenza abissale tra i due. Il Regno Unito ha sempre avuto la sovranità monetaria e quindi è uscito solo dall'Unione Europea. L'eventuale Italexit sarebbe diversa. Certo, l'uscita dall'Unione Europea da parte dell'Italia implicherebbe anche necessariamente la contemporanea uscita dall'euro. Ma questo aspetto è senza dubbio da rimarcare e ha fatto bene Elena a sottolinearlo. Quindi, cari ascoltatori, ecco che così mi accingo ad una conclusione. Purtroppo è un'amara conclusione. In Italia non sono scoppiati molti di ribellione, anche se l'esito delle elezioni del 4 marzo, chiariamo, era un evidentissimo, un chiaro grido di dolore. Purtroppo però non sembra che il popolo abbia raggiunto la consapevolezza che rimanendo all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona la situazione di crisi rimarrà tale. Per il nostro paese si prefigura così una lenta e lunga agonia. Inoltre, qualora faccia più breccia nella nostra popolazione un sentimento critico nei confronti dell'Europa, il fuoco di sbarramento che verrà messo in atto dai media mainstream, i mezzi di disinformazione di massa? Beh, sarebbe devastante. E allora dobbiamo quindi rassegnarci? Eh, assolutamente no. Dovessimo farlo, non faremmo tanto un danno, un torto a noi. La nostra generazione perlomeno ha vissuto anche anni felici. Faremo un torto ai nostri figli che già oggi si trovano senza grandi prospettive, senza grandi prospettive per il loro futuro. Grazie a tutti.